Il Consiglio dei Ministri Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DEF su cui il Ministro Paduan credo potrà intrattenervi, anche se devo dire che è stato particolarmente, aspettavo molto più lunga la relazione. Oggi Galletti ha detto una cosa divertente, non soltanto mi ha convinto ma se non fosse un economista, come ha detto potrei pensare che sono anche cose vere, una cosa del genere. Considerate che peraltro il Ministro Paduan ha vissuto questa giornata con grandissima difficoltà, non per le considerazioni che voi immaginate. Il Ministro Paduan è notoriamente un tifoso laziale, per cui su queste cose le soffre. Al di là delle battute c'è anche una parte di lavoro del Consiglio dei Ministri che vi lascio al comunicato di sensi, che riguarda le nomine, diciamo più che le nomine, le deleghe dei singoli Ministri. L'attribuzione di incarichi come dov'ero uso che sia, il Ministro senza portafoglio e i Ministri. Mi sembra importante che i Consigli dei Ministri abbiano anche… le singole questioni che questi Ministri ve le risparmio, andiamo sul DEF se siete d'accordo. Io ho una rapidissima introduzione. Questo è un documento molto serio, molto rigoroso. Voi sapete che il DEF, per definizione, è un documento nel quale le previsioni che vengono fatte sono spesso oggetto anche di discussioni. Io credo che dobbiamo, alla storia anche personale di Piancarlo, per il lavoro che ha svolto sia nella vita precedente, prima di fare il Ministro, il rispetto che si deve a previsioni che io ho definito rigorose, lui stamattina ma corretto, dicendo semplicemente serie. Però, insomma, noi la crescita la stimiamo allo 0,8, che è diversa dall'1,1 su cui era stimata. E tutti gli interventi che noi abbiamo immaginato sono interventi che abbiamo, non posso dire sottostimato perché non sarebbe corretto, altrimenti non saremmo seri, nemmeno rigorosi, ma che abbiamo guardato con, diciamo, estrema prudenza o aderenza alla realtà. In altri termini, chi tra voi immaginava di poter utilizzare questa occasione per dire ma guarda i numeri sono ballerini, volatili, partono di qua, partono di là, si scontra con un dato di fatto che a partire dalla previsione della crescita del 2014 stiamo non soltanto a ridurre rispetto al passato, ma a dare dei numeri. Io spero, sinceramente spero, che siano smentiti in positivo. Sarei quasi pronto a scommettere se non fosse che ho appena votato una cosa che dice 0,8 e che ovviamente è rispetto. Il Ministro Paduan vi illustrerà il ragionamento complessivo. Io sono molto felice del fatto che il suo intervento è partito dal Piano Nazionale delle Riforme che costituirà anche la base sul documento per la stabilità e la convergenza che mandiamo in Europa fine mese, 20 apri, 22 apri, fine mese, e che sarà valutato nel mese di maggio e che i cui esiti verranno fuori all'inizio del mese di giugno, perché l'importanza delle riforme è assolutamente centrale e strategica. Quando dico riforme, dico riforme elettorali, riforme istituzionale, riforma costituzionale, la riforma del mercato del lavoro, le riforme che troverete nel sommario del PNR, nel sommario più in generale del DEF, che credo siano molto significative. Le riforme non sono semplicemente un punto d'orgoglio di questo governo o, vedo che sulle riforme avete aperto il dibattito di voi, però un elemento fondamentale perché ormai l'abbiamo promesso, le riforme sono la precondizione della ripresa economica. Senza riforme non c'è credibilità con i nostri concittadini, si dice non c'è credibilità in Europa, sì, ma prima ancora non c'è credibilità con i nostri concittadini e le riforme sono un assoluto impegno morale da parte nostra. So che su questo tema tutti i giorni ce n'è una nuova, io capisco anche l'ansia di visibilità che hanno alcuni, alcuni anche che appartengono al mio partito, che appartengono ad altri partiti, c'è questo bisogno di dimostrare che si esiste anche lanciando delle ipotesi che non hanno alcuna possibilità di essere realizzate, come se dopo trent'anni ci potessimo permettere il lusso di tornare a una discussione tutte le volte da capo, dicendo no ma guarda sì avete raggiunto un accordo su quello, però se ripartiamo da capo potremmo fare un'altra cosa perché benissimo, noi rispettiamo tutti, tra l'altro la settimana prossima discuteremo ancora nel dettaglio, oggi la riforma del Senato e del titolo quinto e del CNEL è arrivata in Senato dopo che è stata verificata come prescrive la Costituzione e le leggi dal Presidente della Repubblica, seguendo l'iter naturale delle le leggi costituzionali, però le riforme sono fondamentali e io confermo qui in questa sede e ho sostanzialmente chiuso da parte introduttiva, cioè soltanto da fare un passaggio poi sulle coperture e lasciare la parola a Padoan, confermo in questa sede tutti gli impegni che ci siamo presi, da quelli presi fin dalla sede della consultazione al Quirinale, o meglio dell'incarico e dell'accettazione dell'incarico, pubblica amministrazione nel mese di aprile, avete visto che sul lavoro si è fatto il decreto e si è presentato il disegno di legge a marzo come avevamo detto, quindi impegno rispettato, pubblica amministrazione ad aprile, il tema del fisco a maggio, il tema della giustizia a giugno. Noi andiamo avanti mantenendo gli impegni. Certo, in questo ci stanno tutte le considerazioni di cui stiamo discutendo in questi giorni, abbiamo parlato con qualcuno di voi, il tema dello sforbice a Italia, cioè dell'avere la possibilità di ridurre il numero degli enti e il numero dei membri, dei consigli, dei dirigenti, dei nominati nelle varie strutture. E questo è il punto fondamentale. Se tu dici alla politica che, grazie al lavoro che abbiamo fatto, non ci saranno più consiglieri provinciali, assessori provinciali e presidenti di provincia, non ci saranno più senatori pagati e eletti direttamente, allora hai l'autorevolezza morale per poter dire che anche nel mondo della pubblica amministrazione bisogna iniziare a stringere la cinghia. Questo è l'elemento di novità vera su cui credo che non si stia riflettendo a sufficienza. È in corso una rivoluzione sistematica in Italia, che sta portando non semplicemente a riformare un ente, ma a continuare un percorso scandito da un metronomo delle riforme che stiamo mantenendo giorno dopo giorno, che porta a dire che siccome la classe politica inizia a stringere la cinghia, adesso tocca anche alla classe dirigente. E per questo confermo l'impegno sullo sforbice Italia, confermo l'impegno sulle municipalizzate locali, le municipalizzate sono per definizione locali, non è possibile permetterci un eccesso di società municipalizzate. Da ex sindaci possiamo dire che il governo ha il dovere della chiarezza nei confronti degli enti locali, perché in passato si cambiava idea ogni tre mesi, c'era un decreto nuovo, un disegno di legge nuovo, ma guarda adesso arrivano a discutere questo emendamento e cambiava tutto e si ripartiva da capo. E confermo gli impegni sia sulle scuole che sull'idrogeologico. Rispetto alle coperture dell'operazione degli 80 euro, che è la cosa su cui tanti di voi hanno scritto o discusso in questi giorni dicendo che non ce la fa, perché poi è bellissimo avere la possibilità di lavorare insieme a voi. Quando fate le paginate e ci raccontate che cosa andrebbe sforbiciato ci siete molto utili, per esempio. È straordinario vedere come alcuni giornali stanno dandoci una grandissima mano, nell'andare a individuare i casi di spreco, di difficoltà, un ruolo che l'informazione naturalmente svolge come tanti altri. Però accanto a questo c'è anche una costante previsione di stavolta non ce la fa, dicevo. Va a prendere l'incarico, non glielo dà l'incarico, prende l'incarico non ce la fa a fare il governo, prende il governo non ce la fa a fare metà donna e metà uomini, non ce la fa a fare metà donna e metà celebre. Possiamo fare grandi bisogni? No, no, non si può fare. Ecco, tutte le volte è così. Dopo la conferenza stampa che avete amabilmente definito della televendita, e vi sono grato per lo sforzo intellettuale e ideologico che avete fatto, è accaduto che si diceva le coperture non ce le avranno mai. Benissimo. Allora, torniamo alle coperture, così sulle coperture possiamo chiudere e dare la parola a Padua per la parte seria della conferenza stampa. 10 miliardi di euro di taglio di cunio fiscale, ok? L'avevamo detto non nella conferenza stampa della televendita del Pesciolino Rosso, ma l'avevamo detto in Parlamento quando ci eravamo impegnati per un taglio del cunio fiscale a doppia cifra, partì la discussione ma che è il 10%? No, è andata male, sono 10 miliardi. La copertura per il 2014 è una copertura che riguarda due terzi del periodo, perché parte, come ricorderete, dal 1 maggio al 31 dicembre. 8 su 12 sono due terzi e quindi la copertura è di 6,7 miliardi di euro. Questa copertura che sarà inserita nel decreto che presenteremo venerdì 18, poi vi dico perché, non perché avere di santo e di passione, ma perché necessita del passaggio del DEF in Parlamento che avverrà il 17 per sbloccare una parte delle coperture, quelle relative all'IVA. Adesso vi spendo una parola su questo. Questo tipo di copertura è così formato, 4,5 miliardi dalla spending, che è, diciamo, noi abbiamo ricevuto da Cottarelli ieri un documento di 6 miliardi di spending per il restante, e ci sembra, venerdì 18 poi lo asciughiamo un po', è fin troppo pesante, però fatemi dire e fateci dire che la spending non è soltanto un taglio, è una rimodulazione del processo della spesa, lo spiegherà meglio di me che parlano, ed è un elemento che sta cambiando la pubblica amministrazione. 2,2 miliardi verranno dall'aumento del gettito IVA e dall'aumento della tassazione sulla rivalutazione dell'operazione Banca d'Italia, quindi saranno le banche a concorrere a questo esercizio, a questo sforzo. È evidente che c'è un messaggio in nuce, noi con l'operazione degli 80 euro diamo la quattordicesima gli italiani, gli italiani hanno la quattordicesima grazie a questa operazione fatta dal governo, ma la quattordicesima è un obiettivo che noi abbiamo perché pensiamo che sia un fatto di giustizia sociale, non è depagogia elettorale, è giustizia sociale. In questi anni alcuni hanno preso tanto, per non dire troppo, per esempio, mi spiace dirlo qui, anzi no, sono contento di dirlo qui, i manager pubblici, i manager pubblici con il decreto del 18 di aprile non potranno prendere più di quello che prende il Presidente della Repubblica. Siccome Napolitano si è autoridotto a 238 mila euro, il limite è 238 mila euro. Dicevo ieri a Cottarelli, facevamo l'elento della spesa, ma ti aggiunga un po' di soldi, perché quanto prende i 250? Beh, inizia a abbassare anche su quello, si è messo a ridere, ma è così. È un dato di fatto, noi sul livello 238 mila euro per chi lavora nel pubblico è una cifra decisamente più che sufficiente, non è soltanto più del doppio di quello che prende il Presidente del Consiglio o il Ministro dell'Economia o il sottosegretario. È soprattutto un elemento di limite che ci vuole, perché in questi anni si è totalmente sforato il limite. Aggiungo che una parte della valutazione, per chi ci almeno, poi vediamo se anche per gli altri ministeri, sarà legata non più soltanto a degli obiettivi, che però devono essere chiaramente raggiungibili, perché se uno dice migliorare la produttività, non ho trovato uno che non abbia migliorato la produttività, ma devono essere obiettivi legati anche al sistema paese. Stiamo valutando degli indici, uno è quello del PIL, è il più naturale, altri vengono dall'Istat, altri dall'Ocse, altri dalla World Bank, ma il Ministro Patron ride perché la discussione tra di noi su quale indice utilizzare, per il suo precedente impegno, però al di là delle battute è una cosa bella, cioè il 10% della parte di retribuzione la prendi soltanto se il paese va bene. Come in azienda va bene, ok, hai le stock option, non è possibile che il paese va male, cioè i disoccupati saranno al 42%, i disoccupati giovanili, la situazione di crisi è forte, il PIL è almeno 2,5% e il dirigente pubblico che comunque ha il compito di guidare ha comunque il premio massimo di merito. Con questa operazione inizia a pagare chi non ha mai pagato e inizia a riscuotere chi non ha mai riscosso. È un'operazione di giustizia sociale. Tutto questo lavoro lo stiamo facendo con, mi permetterete e mi perdonerete, il mantenimento dei parametri europei, entro i limiti, ma soprattutto al 2,6%. Come Renzi, hai cambiato idea? Non vuoi più cambiare verso in Europa? No, no, vogliamo cambiare verso in Europa sempre di più e ne siamo sempre più convinti. Ma l'Italia è un paese forte che chiede di cambiare in Europa non perché ha bisogno di mettere a posto i propri conti, chiede di cambiare l'Europa mantenendo i parametri e gli impegni. Noi siamo uno dei non molti paesi che rispetta gli impegni e i parametri europei e che proprio per questo ci sentiamo titolati e in qualche modo obbligati a chiedere che l'Europa nel secondo semestre del 2014 rifletta su se stessa. Tutte queste considerazioni mi portano a dire che il lavoro che è stato svolto dalla struttura, dal ministro Padua, nei sottoscritti del Rio, da tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato all'interno dei ministeri è un lavoro davvero positivo, lo consogneremo domani sera alla Camera e al Senato, avremo la possibilità di votare giovedì 17 in Parlamento alla Camera e al Senato, venerdì 18 il decreto sugli 80 euro con la discussione specifica di dove sono i 4,5 di spending e dove sono i 2,2 tra IVA e operazione bancaria. Entro il 30 aprile la conferenza stampa sulla pubblica amministrazione, il fisco e la giustizia, vediamo in quale ordine le faremo e nel mese di entro il 25 maggio noi speriamo, pensiamo e crediamo che il Senato possa dare il primo colpo sulla riforma costituzionale del Senato, del titolo quinto, che vuol dire eliminare rimborsopoli, tra le altre cose, che vuol dire ridurre anche per i consiglieri regionali l'eliminazione del CNEL e poi c'è un sacco di quelle cose da eliminare, per cui uno per volta elimineremo tutto ciò che va eliminato. Però adesso non abbiamo eliminato un def, anzi l'abbiamo fatto molto serio e rigoroso, la parola al Ministro Paduan, se ha ancora voglia di parlare dopo la definizione di laziale. Come sa il Presidente del Consiglio, io ho in tasca la lettera di dimissioni se continua a provocarmi sul terreno calcistico. Stamattina quando mi ha detto che Destro aveva fatto giornate di squalifica, pensavo scherzasse, purtroppo non è così. No, non lo sapevo, l'ho letto sui giornali. Vi rubo due minuti, poi passiamo, immagino, alle domande per offrirvi una brevissima guida alla lettura di questo documento che, come vedete, è molto voluminoso, che però ha una struttura semplice. Il DEF si compone di due parti, il Piano Nazionale di Riforma e il Patto di Stabilità, cioè una parte che riguarda i cambiamenti strutturali e una parte che riguarda la sostenibilità di finanza pubblica e la crescita. Sono due parti che si completano a vicenda, questo è un punto che io vorrei sottolineare. Le riforme migliorano il Paese, lo rendono più efficiente, lo fanno crescere di più nel breve e nel lungo periodo. Questo permette di guardare in modo diverso alla finanza pubblica, aprire spazi consenzienti di uso migliore della finanza pubblica e aumentare la credibilità del Paese, che si traduce, come vediamo fortunatamente, in ricompensa da parte dei mercati. Questa è l'idea di base, che è un'idea semplice ma che funziona, almeno questa è la mia esperienza a livello internazionale. E un altro elemento è che le riforme vanno viste assieme, si completano a vicenda. Fatemi dare un esempio. Da una parte c'è nel programma del Governo un sostegno ai redditi più bassi, che immaginiamo si traduca in più domanda di beni di consumo, questo si traduce in migliore atteggiamento da parte delle imprese, anche perché beneficeranno di un taglio del loro cuneo fiscale. E questo permetterà di creare più occupazione, anche grazie a una riforma del mercato del lavoro, che renderà più semplice assumere persone e tenerle al lavoro. Quindi questi sono solo esempi di come stiamo pensando all'insieme delle riforme. Naturalmente poi le riforme si possono elencare, in parte già le conoscete, a parte le importantissime riforme istituzionali, che hanno impatti economici molto più profondi di quello che a volte si pensa, sia in termini di credibilità di un Paese, sia in termini di costo di fare la cosa pubblica. C'è un capitolo fiscale che riguarda l'abbattimento delle imposte, che sarà dettagliato con il prossimo Consiglio dei Ministri, sia per le famiglie che per le imprese. Si tratta di una misura strutturale, perché sono tagli permanenti e come tale ha bisogno di una copertura permanente, altrimenti non è credibile. C'è un grosso sforzo di semplificazione della pubblica amministrazione, condizione essenziale per far funzionare le altre riforme. Possiamo scrivere leggi bellissime, ma se la pubblica amministrazione non funziona questo non si traduce in un impatto vero. Privatizzazioni che hanno il duplice obiettivo di far pervenire a abbattimento del debito risorse importanti, ma anche di rendere più efficienti le imprese a partecipazione pubblica. Naturalmente la Jobs Act e tutto quello che ha a che fare con il mercato del lavoro, questo già lo sapete, meccanismi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, che non solo soltanto una misura temporanea per sbloccare i debiti ancora progressi, ma includeranno misure permanenti di semplificazione ed efficientamento dei sistemi di pagamento, in modo tale che noi immaginiamo ingolfamenti del pagamento dei debiti saranno una cosa del passato e questo è anche un cambiamento strutturale. E infine la revisione della spesa, come diceva il Presidente del Consiglio, ovviamente serve a fare risparmi permanenti, ma serve a guardare ai meccanismi di spesa in un modo diverso. Anche qui si possono ottenere nel medio periodo, non dimentichiamoci che la spending review non è soltanto qualcosa di quest'anno, è qualcosa che è un orizzonte temporale di tre anni che metterà la pubblica amministrazione, la gestione della cosa pubblica su un sentiero diverso. Questa è la parte strutturale, poi c'è la parte macroeconomica di finanza pubblica, è stata già ricordata la stima del 0,8% di crescita del PIL, che io ritengo una stima ragionevole, e un percorso di aggiustamento della finanza pubblica sia dal punto di vista dell'indebitamento che rimane al 2,6% sia dal punto di vista dell'aggiustamento strutturale che è praticamente in equilibrio l'anno prossimo e contabilmente in equilibrio nel 2016. Colgo l'occasione per dire che quello che noi diremo in Europa, e noi lo stiamo già dicendo sia negli incontri europei che in quelli internazionali, qui passa un elemento fondamentale per cambiare la politica in Europa. La politica in Europa per la crescita si fa combinando assieme riforme strutturali e spazi di manovra di bilancio, facendolo seriamente, abbandonando le ideologie e ragionando assieme. Questo sarà uno dei temi fondamentali della Presidenza italiana dell'Unione Europea, ed è qualcosa a cui noi arriviamo con i compiti fatti, con le riforme avviate, ed è una cosa, e ne sono profondamente convinto, che interessa tutti i Paesi dell'Unione Europea. Il messaggio dell'Italia è un messaggio che serve a tutti, ovviamente serve anche a noi, ma serve a tutti. Mi fermo qui, ovviamente adesso passeremo alle domande, ma ribadisco il punto. Questa è una strategia complessiva, frutto di un'azione complessiva del Governo intero, ed è questa una delle ragioni fondamentali per cui avrà successo. Grazie per Carlo. Io farei, se siete d'accordo, cinque domande, perché siete pronti poi per i Tg. Quindi vai. Cinque domande insieme. Una, due, dai. Marco Galluzzo del Corriere della Sera. Volevo chiedere se nel decreto che varerete poco prima di Pasqua si può prevedere un intervento anche per gli incapienti, per coloro che sono stati. Io sono venuto puntualmente all'invito che lei mi ha fatto. Allora, a parte il tetto dei 238 mila euro, lei si impegna a un maggior controllo sugli aumenti ingiustificati degli stipendi di molti manager pubblici, come per esempio è successo a parecchi manager della Presidenza del Consiglio, che in piena spending review nel 2011-2013 hanno avuto aumenti di stipendio in totale controtendenza e considerevolissimi. Però questa è la domanda di Ehi, comunque rispondiamo anche oggi. Incapienti, manager... Angela Mauro, Affington Post. Sempre sui tetti e sul tetto agli stipendi dei manager pubblici, mi chiedevo se il decreto del 18 varrà anche per le società quotate. Bene, due domande. No, veloce, se può circostanziare di più... Sono comunque due, anche se sono veloci. Lo scarto rispetto al piano di Cottarelli, cioè la differenza rispetto al piano che le ha proposto Cottarelli, ha detto che lo deve asciugare. Ma Cottarelli ha fatto il suo mestiere, perché avendoci dato 6 miliardi di ragli, sarebbe stato peggio se ce ne avessi dati 3 e noi avessimo dovuto... Vai, ti rispondo dopo. Massimo Meloni, Scatigia 24, volo sapere se la decisione di mantenere il rapporto deficit di spira al 2,6% in maniera così rigorosa, prelude poi a una trattativa sul fiscal compact e quindi sulla diminuzione del debito. Questo è difficile rispondere a Padoan dopo. Bene. Le ultime... Quelle difficili... Veloci, dai. Andiamo. Alberto Gentili del Messaggero. Si è parlato nei giorni scorsi di un rientro più lento rispetto alla discesa del debito. Ha confermato questo intendimento in sede europea? Anche questo è Padoan. Bene. L'ultima e poi facciamo un po' di risposte, un po' di risposte per Carlo. Sul punto delle riforme costituzionali, in particolare del Senato, se da parte sua c'è stata nei giorni scorsi una piccola apertura verso la revisione, insomma, della riforma del Senato, se conferma questa apertura, in particolare dalle richieste che arrivano sia dall'interno del PD che soprattutto da Forza Italia. Ottimo. L'ultimissima. Prego. Eh, troppi. Dai. Capodanno Anza. Allora, sul fronte delle privatizzazioni, se ci vuol dare qualche dettaglio. Padoan, bene. Vai. Domande femminili. Non è certo una domanda. C'è stato tanto Angela Malo. Lui è un maschio. Ma no. Si vede. Se sono previsti come si circolavano le voci di tagli non lineari alla sanità e risparmi sulla difesa. E di tagli sulla difesa. Sì, ok. Perfetto. Allora, provo. Stop. Se siete d'accordo, perché poi lo faccio per voi, dovete scrivere e noi possiamo restare qui, ormai siamo preparatissimi. Te stai controllando la posta. Sì. Va bene. Allora, molto rapidamente le domande incapienti. Sì, c'è una soluzione tecnica che riguarda anche almeno i cosiddetti incapienti. Ricordo le regole del gioco, per dire gioco è una delle operazioni più importanti. Noi diciamo che quelli che ricevono meno di 25 mila euro lordi all'anno, che significa più o meno 1.500 euro netti, e sono, se non consideriamo gli incapienti, perché se consideriamo gli incapienti totali sono più di 10 milioni di persone, diciamo sono 14, 15, quindi i numeri poi ve li presenteremo, sono 10 milioni più 4 di incapienti, questo è il concetto. Noi formeremo, la domanda fino adesso era come farete a trovare i soldi? Ora che oggi vi abbiamo spiegato dove troviamo i soldi, la domanda è come li spenderete, giusto, corretto, e tutte le volte spostate un po' più là, come è corretto che sia. Il 18 ci sarà nel decreto l'individuazione, direi fascia per fascia, anche perché il 18 il decreto è lo strumento attraverso il quale le aziende pubbliche, ma anche le aziende private, poi dovranno fare fisicamente le buste paga. Comunque la risposta alla domanda è sì. Mettere 80 euro nelle tasche di chi guadagna 1.100, 1.200 euro netti al mese, secondo me, 80 euro mensili, è secondo me un fatto di non soltanto giustizia sociale, come dicevo prima, ma anche uno straordinario modo per restituire un po' di fiducia agli italiani. Io voglio dirlo con grande serenità, l'Italia ce la può fare, non è vero questo continuo ritornello, noi non ce la faremo mai, siamo condannati al declino, non andiamo da nessuna parte, anche restituire un minimo di possibilità alle famiglie che stanno sulla parte più bassa dei redditi è un passaggio che va esattamente nella direzione di restituire, oltre al denaro, un minimo di fiducia. La risposta è la stessa di ieri, sì, confermo. Questo è un passaggio veramente importante e significativo per l'Italia. Per la prima volta c'è un limite che è un limite davvero rilevante, tantissime realtà aziendali e legate alla pubblica amministrazione stavano sopra questa cifra, non riguarda le aziende quotate che hanno di per sé un meccanismo loro, ma riguarda per esempio tutto ciò che è il mondo delle nomine che deve fare Palazzo Chigi, per esempio, o il MEF o le altre strutture dei ministeri. Noi non possiamo nominare delle persone che guadagnino più di quelle cifre lì. Io sono affezionato a Adriano Olivetti che diceva che un amministratore delegato di un'azienda non deve prendere più di dieci volte. Ancora non siamo a questo livello lì, però noi abbiamo dato una stretta molto significativa e vedrete che avrà non soltanto una ricaduta, mi pare che nella spending del Cotarelli la stimi tra i 350 e i 400 milioni di euro, mi sembra una bella cifra, però al di là della cifra è importante il valore simbolico, politico e culturale. Oggi lo diceva gli stati generali della Salute, se il manager dell'Asl anziché guadagnare 300 mila euro, ne guadagna 200, alla fine del mese ci arriva bene, non ha di questi problemi. E se anziché prendersi l'auto blu, perché nonostante i risolini nell'altra volta, le auto blu le stanno comprando gli italiani, ed è ovviamente un simbolo, ma è l'idea che lo Stato si liberi dell'eccesso. Ecco, se il manager dell'Asl smette di andare in auto blu, vi garantisco che campa lo stesso. La domanda ulteriore della Mauro era su Cotarelli, ha proposto un taglio molto ampio, lo verificheremo nelle prossime ore, che Carlo tornerà da New York, da Washington, scusami, per il fondo per gli eventi internazionali domenica e quindi da lunedì lavoreremo, abbiamo da lunedì a venerdì di tempo per completare le scelte. Non ci saranno taglie lineari, è evidente che cosa vuol dire taglio alla sanità? Vorrei essere chiaro, in prospettiva sulla salute, spenderemo di più, non di meno. Perché? Perché si invecchia. E invecchiando, e meno male che si invecchia, perché chi non invecchia fa una financia, come è noto, quindi invecchiare non è questo bel problema. Invecchiando crescono malattie più complicate. Quanti di noi hanno in famiglia casi di Alzheimer o di demenza? Quanti di noi hanno malattie diverse? Questo significa, lo diceva oggi la Lorenzin agli stati generali della salute, ripensare al modello ospedaliero. Dopodiché ci sono delle regioni che fanno un lavoro egregio, ottimo, straordinario. Volete che vi dica che, ne dico due, ne potete dire tante altre, ma ne dico due. L'Emilia Romagna e il Veneto, ne prendo una di sinistra e una di destra, hanno avuto in questi anni un'attenzione ai costi davvero meritevole di valorizzazione. Sì, altre regioni hanno avuto minore attenzione. E allora noi dobbiamo essere capaci di incidere sulle spese di queste regioni. E essere capaci non si può fare soltanto con un documento, bisogna essere anche in grado di picchiare duro se serve. Io direi di aver finito le domande facili, non mi pare che ce ne fossero altre che erano rivolte a me, no, chiedo scusa, l'ultima è quella sulla riforma costituzionale, mentre lascerei al Ministro Paduan tutte le risposte sui numeri e l'Europa. Paduan ci ha spiegato oggi con molta chiarezza nella discussione in Consiglio dei Ministri, ma lo troverete qui spiegato con altrettanta nettezza che il tema delle riforme è anche un tema economico, è un tema di credibilità a livello internazionale, ma è un tema di recupero di rapporto con i cittadini. Noi abbiamo bisogno di dire ai cittadini che i politici fanno i sacrifici. Il modello di politica economica che stiamo predisponendo è noi diamo la quattordicesima a chi guadagna meno di 1.500 euro perché tagliamo ai supermanager e perché tagliamo i costi della politica. Tra l'altro spero che anche gli organi costituzionali accettino il principio dell'equiparazione al Presidente della Repubblica. Trovo strano che il Segretario Generale della Camera o del Senato e le figure apicali debbano prendere le cifre che prendono. Mi sembrerebbe un atto di serietà che anche gli organi costituzionali, che hanno la loro autonomia e che nessuno vuole mettere in discussione, avessero l'intelligenza, la forza, la lungimiranza e il coraggio di tornare in sintonia anche loro con il Paese. E so che avendo detto questa cosa ci saranno polemiche, ma questo è il principio che deve dire una persona che rappresenta l'Italia oggi. C'è bisogno che la classe politica e i dirigenti, i manager pubblici avvertano questa urgenza. Questa urgenza passa anche dal percorso di riforme. Rispetto al 12 marzo, per le province non si vota più. Non era scontato. L'Italicum è stato approvato in prima lettura alla Camera. Non era scontato. Il testo di legge costituzionale che noi abbiamo presentato in quella sala e che oggi vede una discussione aperta, però permettetemi di dire che noi non abbiamo presentato d'amblè. Abbiamo aperto la discussione per tutti i giorni di tutti e apprezzo che oggi ci siano anche tra i professori più polemici segnali di disponibilità al dialogo che mi sembrano molto importanti. Il tema della riforma costituzionale è un tema enorme che riguarda il rapporto tra regioni e Stato centrale. Ma volete che vi raccontiamo, andando a giro per l'Europa e per il mondo, quante aziende ci dicono che hanno paura a investire in Italia perché non sanno se la competenza sull'energia è delle regioni e dello Stato centrale o che non hanno un interlocutore unico sulla politica della formazione e sul mercato del lavoro? Ma volete che ve lo diciamo quanta sofferenza facciamo nel vedere che tra regioni e Stato c'è un eccesso di contenzioso pazzesco? Allora, semplificare parte da alcuni gesti. Ma avete abolito il CNEL. Proponiamo l'abolizione del CNEL? Sì, a casa saranno terrorizzati. Oddio, come faremo senza il CNEL? Ora sì che il mondo non ha più senso senza il CNEL. Ma il CNEL è un'istituzione, al di là del costo, che è stata un'occasione persa in questi 70 anni di esperienza costituzionale. E quando le cose non funzionano, essere attaccati alle istituzioni non significa essere nostalgici e difenderle, ma significa cercare di adeguarle. Questo che ci ha insegnato il diritto e il diritto romano, soprattutto il diritto romano e poi tutto ciò che ne è conseguito. Allora, sulla riforma costituzionale, quali sono i punti inderogabili per noi? Il primo, non ci può essere il bicameralismo perfetto. Cioè non si può far sì che il Senato voti la fiducia, che il Senato voti il bilancio. Abbiamo inserito un tema che è quello che il senatore, rappresentando le autonomie, non abbia un'indennità. E noi immaginiamo che il Senato sia un luogo nel quale le autonomie e i territori, come succede in quasi tutta Europa, abbiano un luogo di confronto anche con esponenti della società civile, della famosa discussione dei 21 che lei conosce. E chiaramente che non abbiano indennità. Non facciamo la riforma del Senato per risparmiare, anche se pensiamo che si debba risparmiare e che i risparmi che arrivano dalle province del Senato sono in quota parte dentro il ragionamento della spending, nel 15, nel 16, quelle delle province nel 14. Però questa storia del Senato è una storia enorme. Perché leggere, sentirsi dire che il punto è conservare l'indennità ai senatori, per di più anche da realtà come il Movimento 5 Stelle. Mi sorprende, mi colpisce. Avevo capito che erano nati peraltro, non per difendere le province e per difendere l'indennità dei senatori. E comunque nel rispetto che si deve ai 5 Stelle o anche a chi dentro i vari partiti cerca di discutere di questo. Ho letto oggi che c'è una posizione di alcuni autorevoli esponenti della destra che dicono che su queste cose vogliono approfondire. Io so che l'impegno che noi abbiamo preso a Nazareno è un impegno che oggi vede la maggioranza che sta al Governo e l'opposizione di Forza Italia convinti sul fatto che non ci sono più case di rimborsopoli perché si eliminano i rimborsi, l'indennità del consigliere regionale è quella del sindaco del comune capoluogo, che il senato viene superato, che non c'è più l'indennità e l'elezione dei senatori e che c'è finalmente chiarezza sul titolo quinto e sul rapporto tra state e regioni. Sono convinto che questa cosa vada avanti. Io sono ottimista e fiducioso quanto al mio partito, se la domanda è dal mio partito, al di là di qualche senatore in cerca di visibilità che cerca probabilmente anche, che nei fatti prova a oscurare il lavoro di tantissime donne e uomini del senato del PD, il Partito Democratico ha discusso di queste cose per anni, ha messo ai voti con le primarie le varie proposte, ha votato due volte in direzione la discussione, ha fatto più volte riunioni dell'assemblea dei senatori l'ultima stamani, la prossima, Presidente Zanda l'ha convocata per martedì, discute ed è pronto a fare delle modifiche perché molte delle cose che noi abbiamo proposto possono essere naturalmente cambiate, si può migliorare. Ma qual è l'idea di Stato che presentiamo? È un'idea di Stato più leggero dove i cittadini possono pensare che chi fa politica la fa per un periodo limitato di tempo, non la fa per sempre, non la fa per prendere dei super stipendi, la fa per servizio. Questo è il punto centrale. E siccome il PD a queste cose ha sempre creduto e continua a credere, io sono assolutamente ottimista che su queste tematiche porteremo a casa il risultato. Il fatto che questo risultato avrà delle ripercussioni e delle ricadute anche a livello europeo è tema che lascia volentieri al Ministro dell'Economia anche per rispondere alle altre domande più legate al debito e ai numeri. Grazie Presidente. Allora, tre domande. Vogliamo mantenere i numeri giusti per provare a cambiare le regole europee? In qualche modo questo è vero. Sicuramente per cambiare le regole europee bisogna avere il rispetto dei partner europei. E questo passa innanzitutto per la serietà con cui gli impegni vengono presi e portati avanti. E questo su due fronti, finanza pubblica e riforme strutturali. Io penso che questo programma che abbiamo esposto oggi vada esattamente in quella direzione ed è il tema, ripeto, che la Presidenza italiana e l'Unione europea porterà avanti. In che modo possiamo far ripartire la crescita e il lavoro con gli strumenti che abbiamo e con strumenti nuovi o modificando gli strumenti che abbiamo. Quindi assolutamente rispettare i vincoli sia perché fa bene a noi e sia perché ci permette di cambiare gli altri. Rientro del debito. È più lento? Beh, quest'anno il debito è stato, recentemente il debito è andato su invece che scendere per una serie di ragioni importanti che vi ricordo. Innanzitutto perché l'Italia, che è uno dei maggiori paesi dell'Unione europea, ha contribuito per la sua quota parte al finanziamento dei cosiddetti fondi salvastati. E siccome siamo un paese grande, dobbiamo dare più soldi. Punto primo. Punto secondo, alcune delle operazioni che hanno aumentato il debito sono importanti ma sono anche state richieste, suggerite, dall'Unione europea come le misure di riborso del debito dell'APA. E questo va benissimo. È importante che si faccia, ha come implicazione un aumento del debito. Terza ragione che io ritengo la più rilevante e sulla quale il governo italiano in quanto tale ha poco a che fare è l'andamento veramente poco soddisfacente della crescita nominale, cioè della crescita del PIL e della crescita dei prezzi. La zona euro dovrebbe avere in media un tasso di inflazione del 2%. Se ci fosse un tasso di inflazione del 2% e una crescita, non dico tanto, dell'1%, avremmo una crescita del 3% e questo nelle attuali condizioni di finanza pubblica italiana da solo basterebbe a portare il debito sul sentiero discendente in modo costante. Quindi saremo a posto, perché la nostra finanza pubblica è a posto. Privatizzazioni, il programma va avanti, enave poste, tanto per citarne uno, sono in fase avanzata in questo senso. Le privatizzazioni continueranno. Quando vedrete il documento vedrete che sono state messe a posta delle cifre nel DEF che riguardano il ricavo dalle privatizzazioni che va a scalare sul debito e quindi facilita e aiuta la discesa del debito PIL che comincerà a vedersi presto e che a mio parere si accelererà via via che la crescita prende forza. Quindi sostenere la crescita naturalmente è anche un modo e forse il modo migliore per abbattere il debito. Il Ministro Pado mi ha dato lezioni di brevità, vi ringrazio di cuore. L'appuntamento per il prossimo Consiglio dei Ministri è venerdì prossimo. Se non c'è altro, buona serata e buon lavoro a tutti. Grazie. 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 Grazie.